L'NB Group è la holding che detiene le partecipazioni delle società salvaguardia ambientale, i West e Sovreco. Le tre aziende esercitano la loro attività nel settore ambiente e energia, dalla raccolta e trasporto allo smaltimento e recupero dei rifiuti, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili. Salvaguardia ambientale, situata a Crotone, si pone come partner esperto e filato nel trasporto e smaltimento dei rifiuti e nei lavori delle bonifiche ambientali. Attualmente sta eseguendo la messa in sicurezza e bonifica della falda del sito di interesse nazionale di Brindisi, Area Micorosa. Sovreco è proprietaria di due discariche, situate entrambe nel comune di Crotone, e si occupano di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. i West svolge servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti non pericolosi. La società, qualificata Unisoa, categorie OS14 e OG3, sta realizzando una piattaforma inzientistica per il trattamento di rifiuti pericolosi e non in basilicata, composta da una linea di inertizzazione, una di trattamento chimico-fisico-biologico e due linee mobili di recupero di fanghi, di perforazione e soil washing. Grazie per la visione!